Buonasera amici di Otto Channel, passata una settimana da quell'Esploa, bellissimo, quella vittoria allo stadio Mattorino col gol di Gaic, ci ritroviamo ma le immagini, le emozioni che resteranno indelebili sono ancora ben presenti in noi perché quella è stata davvero una giornata speciale. Buon lunedì, io vi preannuncio, sarà un lunedì particolare, ci proietteremo al sabato, al sabato santo, al vigorito Benevento Parma per la ripresa ma stasera abbiamo un super ospite, un ospite che devo dire anche a noi ospiti ci ha messo i brividi perché stasera a Otto Channel abbiamo la Coppa del Mondo, la Coppa del Mondo in studio. Una Coppa del Mondo speciale è qualcosa veramente di emozionante, da brividi anche per tutti noi, ce l'ha portata un grande amico, questa Coppa del Mondo la vinse l'Argentina nel 1986, l'Argentina, proprio come Gaic, l'ombre del partito, l'uomo del momento. Vinse il Mondiale in Messico con Diego Armando Maradona, stasera è con noi Pedro Pablo Pasculli. Buonasera Pedro, ci hai fatto un regalo, io ti dico, io mi sono emozionato, quindi non oso immaginare, se io mi sono emozionato a vederla, a toccarla, a fare una foto, ma quando tu l'hai vinta con Maradona che cosa è successo? Beh, è come, ancora un sogno era, toccare e vedere la Coppa che ancora non l'avevamo fra le mani, vederla alle vicino, sembrava una cosa impossibile per noi, una cosa che da bambino lo sognavi, però era una cosa inarrigiungibile. E invece diventava realtà. E dopo l'abbiamo preso in mano, lo tenevamo noi, l'abbiamo tornato fino all'Argentina. Eh beh, ci credo, tra l'altro è incredibile, noi l'abbiamo accostata alla birra, sono un po' emozionato perché parlo della Coppa del Mondo, non è che, alla birra che celebra la promozione storica del Benevento a suon di record. Bene, 86 punti, c'è anche il numero 86 sulla birra nell'86, la Coppa del Mondo. Ne parleremo a lungo perché parleremo a lungo di Gaic, il nuovo bomber del Benevento. Buonasera a Bibi Villuzzi, la gazzetta dello sport. Ciao Bibi. Buonasera, buonasera a tutti. Confessalo, ti sei emozionato anche tu. Sì, beh. Cioè non capita tutti i giorni. Non tolgo gli occhi, effettivamente, non l'ho ancora toccata, ma mi giro e la guardo perché effettivamente è un'emozione. È un'emozione molto forte. Sonia Lantella, buonasera. Buonasera, Valtella. Tu non eri neanche nata nell'86, beata te. No, no, ero nata, però avevo pochi anni, dai. C'aveva un anno l'ospite che è venuto a trovarci e sono proprio contento, 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 contento e contento ancora. Pasquale Schiattarella, buonasera Pasquale. Ciao, buonasera a tutti. Senti Pasquale, tu avevi un anno nell'86, però insomma la conosci la storia di quel mondiale, Maradona, fu un mondiale incredibile. Da napoletano poi mi sono informato. È bella vederla, come hai detto te prima, non è da tutti i giorni. Davvero una grande emozione. Senti Pasquale, ma un po' al di là della gioia enorme, ti è dispiaciuto non esserci stato a Torino per quella squalifica in una giornata che rimarrà storica? Perché quella è storica. Sì, mi è dispiaciuto non essere in campo, ma felicissimo per i tre punti che abbiamo conquistato. Tre punti pesantissimi. Allora, si entra nel rush finale. Le ultime dieci si comincia sabato al Vigorito, tra l'altro doppio impegno al Vigorito. Sabato e l'altra domenica poi col Sassuolo. Il lunedì, scusatemi. E ovviamente noi analizzeremo le ultime dieci finali. Come sta il benevento, Sonia? Bene, sta bene, sta bene. Ha recuperato Iago Falch e De Paoli, che oramai da tempo si stanno allenando con la squadra. Non ce la farà... Iago è in grandissima forma. Notizie che ci arrivano, sta proprio bene, bene, bene. Ed è importante perché potrebbe essere lui un valore aggiunto, oltre chiaramente a Gaic, per questo rush finale. Non ce la farà ancora Letizia, che dovrebbe aggregarsi al gruppo settimana prossima. E poi c'è da capire un po' la questione dei calciatori impegnati con le nazionali, perché rientreranno effettivamente allo scadere, ciclotamponi. È un po' questa la pecca. Speriamo, insomma, che Gaic e Dabo riusciranno a rientrare per mercoledì, mentre per Ionizza e Glick si parla di giovedì. E addirittura venerdì sarebbe veramente troppo sotto alla partita. E sì, è il giorno della vigilia. Allora, siamo al Giro di Boa. Dieci finali e un grande sogno. Il Benevento vuole la permanenza in Serie A. L'abbiamo detto alla prima puntata, lo scudetto del Benevento. Ultime dieci tappe. Allora, dieci finali al sogno. È una serata veramente dalle grandi emozioni. Noi parleremo del rush finale. Abbiamo la Coppa del Mondo in studio. Stasera quella vinta nell'86 dall'Argentina di Maradona. È venuto a trovarci Pasquilli. Nell'86 quel Mondiale lo giocò anche l'ospite che abbiamo in collegamento. Lui giocava però nell'Italia del vecchio Berzot. Ci fa un grande regalo stasera. Nanu Galdirisi. Buonasera, Nanu. Ciao, Valger. Mi sentite bene? Che bello vederti. Tutto bene? Che piacere di vedere il bomber. Il grande, scusa. Ciao, ciao. Grande battaglia abbiamo fatto. Ma ci siamo divertiti tanto. Saluto tutti gli amici in studio. Bellissimo. È veramente un piacere. Con me c'è Pasquale Schiattarella, il capo allo sport della TV, Sonia. Ho avuto modo di conoscerlo. L'ho intervistato, allenatore del Benevento, per cui si ricorderà o no, mister? Assolutamente sì. Non dimentico facilmente il mio passato. Bibi Belluzzi della Gazzetta. Anzi, le persone che hanno fatto parte del mio passato e le esperienze che ho avuto in tutti i posti dove sono stato. Io lo racconto perché, Nanu lo sa, una delle emozioni più belle della mia vita l'ho condivisa con Nanu Galderisi. Perché io da bambino sognavo di fare il telecronista di una partita in Serie A e quel sogno mi è diventato realtà perché esordio del Napoli e del Lorenzo in Serie A, Napoli-Cagliari, vinse il Cagliari 2-0 e tra l'altro c'era Pasquale Foggia che fece gol. Era agosto, telecronaca e al commento tecnico Nanu. Nanu, ma quanti gradi c'erano? 50 quel pomeriggio. Però eravamo una gran coppia, ci siamo divertiti. Noi poi non avevamo paura di niente e poi eravamo belli vivi, come piace a noi. Manu, a proposito di non aver paura, il Benevento non deve aver paura in questo finale. Una squadra che vince a Torino con la Juve ha tutto per salvarsi. È così? Assolutamente sì, anzi devo fare un passo indietro. Poi c'è Catarella che è perfetto. È una squadra che negli ultimi 12 partite ne ha vinte una, vero? Perciò era già in una grave situazione. E ha vinto a Torino con la Juve. E ha vinto a Torino. Perciò tra sconfitte, pareggi e difficoltà è un vero gruppo. Chi ha veramente uno spirito importante, chi segue l'allenatore in un certo modo e chi sa soffrire riesce ad andare a fare una partita a Torino come hanno fatto. Perché questa è la verità. Perché se no non ne esci, rischi di andare giù. E invece credo che il gruppo, il buon lavoro di Inzaghi, il rispetto che c'è, ma si vede che hanno un'anima, hanno una voglia di combattere tutti insieme, si compattono bene, anche nelle sconfitte, nei momenti difficili. Hanno sempre trovato quella forza che secondo me l'allenatore deve trasmettere. Il credere tutti insieme che quello che fanno, quello che si fa, è fatto al massimo. E hanno anche dei ottimi giocatori per poter fare un gran finale. Io mi ricordo che noi vincemo con il Padova 0-1 a Torino con la Juventus. Ma tutti dissero, ma la Juventus non ha fatto una grande partita, ma la Juventus non è stata all'altezza. E invece io credo che se il Benevento riesce ad andare a vincere a Torino con la Juve, e se quel Padova vince 1-0 che poi noi ci salviamo, non è tutto demerito della Juventus. C'è anche un grande merito di una squadra che ha giocato un gran calcio. Non c'è dubbio. Pasquale, io credo che la fotografia che ha fatto Galderisi sia una fotografia perfetta. Perché non eravate in un momento facile, non vincevate dal 6 gennaio. Le polemiche, il ritiro, il K.O. pesantissimo con la Fiorentina è la risposta di un grandissimo gruppo. Sicuramente il mister ha fatto un'analisi perfetta, ma non ci dimentichiamo che quando abbiamo battuto il Cagliari il 6 gennaio parlavate in tanti di Europa, tranne la squadra, l'allenatore e la società. Parlavano solamente di una salvezza. Ci siamo presi solo un vantaggio perché dopo due mesi che... Non conosci quanto è difficile il campionato di Serie A? Molto. Ma tutti i ragazzi che ho sentito parlare hanno sempre detto che il girone di ritorno è più difficile, fai meno punti. Il Benevento aveva un buon vantaggio. Poi siamo sempre andati in campo con la voglia di fare tre punti. A volte ci riesci, altre volte no. Con la Juve è stata la dimostrazione. Abbiamo sorpreso tutti e gli altri non hanno fatto punti. Quindi il vantaggio è di nuovo notevole. Noi sappiamo qual è il nostro obiettivo. Il mister ha fatto un'analisi giusta. Proseguiamo sulla nostra strada. Bibi, in queste ultime dieci, Ivan Calabrese ce le ha raccontate, poi magari le vediamo anche in grafica. Cinque al vigorito, cinque in trasferta e su un piatto d'argento le prossime due. Al vigorito, il Parma, il Sassuolo. Forse è il croce via veramente per mettere il timbro alla stagione? Sì, c'è quello che Pasquale ripete da sempre è sacrosanto e bisogna assolutamente pensare unicamente alla salvezza, non pensare che sia facile. La partita col Parma è molto importante, è fondamentale. Perché in ogni caso anche tenerlo, lo diceva l'altro giorno Pavoletti, proprio dopo la partita col Cagliari, certe partite devi avere anche il coraggio di pareggiarle a volte se non riesci a vincerle. Quindi io credo che il Parma tenerlo comunque lontano sia fondamentale. Poi col Sassuolo, che è una squadra che gioca un calcio molto propositivo, non sarà facile. È chiaro che chi incontra il Sassuolo magari la prossima partita senza Berardi e Caputo è molto favorito. E anche perché tutte le volte in cui c'è stato Berardi, ho letto il Sassuolo, ha proprio una marcia in più. Il Sassuolo che poi, ricordiamolo, ha sempre una gara da recuperare, non ha giocato con l'Inter. Pedro, tu hai giocato tanti anni a Lecce e ovviamente sai come si conquista una salvezza. In queste ultime dieci il Benevento non dovrà mollare di un solo centimetro, no? Assolutamente no. Infatti il nostro escudetto è la salvezza. Infatti, approfittarsene adesso di queste due partite casalinga che tiene. Anche perché il Sassuolo, una bella squadra, vabbè adesso il Parma. E poi il Sassuolo, ho sentito qualche dichiarazione anche del loro mister che dice che qualcuno ha staccato già un po' la spina dei giocatori di Sassuolo. Molto arrabbiato dei serbi. Pomeriggio di Torino-Sassuolo, il Sassuolo era avanti 2-0. Si è suicidato in otto minuti perdendo quella partita. Sonia, tu hai una domanda per il mister, per Nanu Galderisi? Sicuramente lui ha tanta esperienza sia da calciatore che come allenatore. Quindi la curiosità e anche il consiglio, no? Qual è l'errore che non dovranno commettere i giocatori del Benevento nella prossima sfida col Parma? Perché è vero che c'è stata la sosta e ha stemperato un po' quell'entusiasmo figlio di una vittoria strepitosa. E' anche vero che vincere allo stadium dà una carica in più, però la salvezza passa attraverso la sfida anche col Parma, no? Soprattutto col Parma. La salvezza è proprio sulla Via Emilia, l'abbiamo titolata così, perché Parma-Sassuolo è chiaro. Nanu, mi è molto piaciuta la frase integro solo di Schiattarella quando non puoi vincere... No, di Bibi, Velluzzi. Quando a volte non puoi vincerle... Vabbè, insomma, è un giro. E solo quando non le puoi vincere l'importante è non perderle. E' così? Sì, sì. Eh beh, questa è... Fa parte del... No, fa parte... Né di Pavoletti, né di Schiattarella. Che vecchia! Allora, il Benevento ha sette punti di vantaggio. Ha due settimane... Sono due settimane che lavora con grande... Con grande serenità, tra virgolette. Non penso tranquillo perché conoscendo Pippo Enzaghi non credo che ci sia tutta quella tranquillità. ma io credo che lavorare bene in questo momento quando sei soddisfatto di quello che hai fatto credo che possa aiutarti a preparare meglio una partita ad avere più entusiasmo ad avere più convinzione ad avere più personalità e queste partite che arrivano le prossime due in casa non sono assolutamente facili perché non sono facili specialmente la prima però sono partite che il gruppo, la squadra, l'allenatore stanno preparando con il piglio giusto. Secondo me devono eliminare dubbi, incertezze e paura e credo fortemente che quello che fanno lo devono fare con tutto quello che hanno dentro perché ce l'hanno hanno la possibilità e non tanto guardare la classifica ma credere nei propri mezzi e vedrai che poi mi è piaciuto anche adesso non so ma quante volte quante volte dici ti ho perso perché non so cosa è successo no io ti vedo ti vediamo sì ah perfetto allora parlo anche se non mi vedo io se non vi vedo va bene lo stesso no dico quattro hanno giocato la capacità di un allenatore insieme a un gruppo di andare a Torino se non sbaglio cambiare anche il modo di stare in campo con i tre dietro i cinque e mezza al campo i due davanti insomma passare da un 4-3 2-1 a questo a questo 3-5-2 credo che radice lunga su quanto quanta attenzione e quanto amore ci mettono nel preparare le cose e questo secondo me è anche un grande vantaggio vuol dire che il gruppo è forte allora Nannu noi abbiamo ascoltato tutto però non ti vedevamo cerchiamo di riattivare il collegamento perché lo voglio poi salutare Calderisi Pasquale è chiaro uno come Inzaghi no eccoti qua adesso ti vedo Nannu adesso ti vedo con un come Inzaghi non si molla di un centimetro ma ci mancherebbe queste ultime dieci saranno dieci finali il mister lo conoscete forse meglio anche di me sotto questo punto di vista è un grande passionale un grande lavoratore lui e il suo staff sappiamo che da qui alla fine ci aspettano dieci finali ma sappiamo anche che abbiamo un vantaggio e sono gli altri che devono aver paura di noi e non guardarci indietro noi abbiamo tanti scontri diretti in casa questa vittoria ci dà tanta energia e tanta forza ma soprattutto secondo me è arrivata in un momento perfetto è arrivata la vittoria con la Juventus sosta ricarichi le batterie e questo mese sarà decisivo bibi volevi chiedere qualcosa siete stati forse tra i più tardivi ad arrivare alla difesa 3 che oggi un po' domina in Italia e riceverete negli ultimi giorni i giocatori che Inzaghi ha utilizzato di più c'è Glick e Ionita che sono i giocatori Ionita ha saltato una sola partita e Glick due giocatori che hanno il minutaggio più elevato dopo Montipò dopo Montipò nel Benevento e questo può essere un handicap invece tu pensi che la difesa 3 possa essere un'arma in più in queste finali oppure la vostra matrice la vostra identità è quella della difesa 4 io penso che la squadra ha dimostrato che siamo tutti utili e nessuno è indispensabile al di là dei moduli durante il corso di questi anni col mister abbiamo giocato in diversi moduli sono arrivati risultati a volte no poi ti ripeto in questo momento quando quando mancano così poche partite alla fine è la voglia la determinazione che ti portano a fare cose forse come per noi un sogno a ottenere una salvezza non è un modulo che ti fa raggiungere l'obiettivo finale quando dai davvero qualcosa in più Pedro poi io lo raccontavo lui di scorso se vai a Torino con la Juve ti mancano De Paoli e Letizia Glick e Schiattarella e vinci in quel modo vuol dire che questo è un gruppo che ha dei valori enormi ha voglia che ha dei valori enormi io seguio molto il Benevento sta andando benissimo dopo come nell'ultima partita ha avuto dei problemi c'è dei problemi diciamo può capitare può capitare le squadre però io penso che il Benevento è una squadra che ha tutte le carte in regola per rimanere in Serie A perché gioca bene c'è una bella squadra le squadre gioca bene l'ha dimostrato adesso Torino non è che come hai detto tu prima la Juve non era in giornata no perché il Benevento l'ha messo in difficoltà perché è una squadra che è andata a giocare a viso aperto Senti Nanu nell'86 quando poi Pedro e l'Argentina vinsero questa Coppa del Mondo che abbiamo stasera in studio tu l'hai affrontata no Italia Argentina e già lì Maradona 1 a 1 fece un gol Maradona pazzesco ma tu già lì avevi capito abbiamo riperso ecco lo qua avevi capito già lì che forse avrebbero vinto il Mondiale è Nanu no no allora Maradona venne a trovarci per salutare tutti gli azzurri in ritiro nostro penso una settimana prima che iniziasse il Mondiale venne a salutarci e nel momento in cui si presentò dato che lo conoscevamo perfettamente si presentò in ritiro i nostri occhi si incrociarono tutti tutti dai grandi dai giovani dai nuovi perché era talmente tirato era di una bellezza era di una stava benissimo io non l'avevo mai visto così così stava ma magro magro stava 74-75 kg pesava non era mai stato così in forma come il Mondiale con questo petto in fuori con questa spavalderia con questa sicurezza non dettata dall'arroganza ma dalla insomma poi quella era una grande argentina perché voglio dire questa è una grande argentina Diego era bravo anche in questo era una persona l'avete conosciuto tutti voi la nazionale italiana era era semplice era umile per quello io stavo con lui in camera e dividevamo la stanza il Mondiale con Diego era semplicissimo era pensate stasera era semplicissimo stasera abbiamo il bomber che condivideva la camera con Maradona Nanu ma tu vuoi saperla una battuta divertente ci sei vero Nanu ora ti racconto una cosa poi so che ti dobbiamo salutare siccome noi vedremo i gol di Gaic a proposito di argentini questo signore siccome dormivano insieme sai cosa gli ha detto la notte che hanno vinto il Mondiale gli ha detto guarda Diego che io ti ho fatto vincere il Mondiale Maradona ha detto ma con l'Uruguay vince l'Argentina e segna Pasquilli e ci abbiamo le immagini e lui la notte gli ha detto guarda che tu hai vinto il Mondiale grazie a me e grazie a questo gol che io faccio all'Uruguay poi però Pedro si era dimenticato quello che ha combinato dopo Maradona ma per vincere il Mondiale ecco Maradona per vincere il Mondiale guarda Maradona guarda Maradona era infermabile era un giocatore in quel momento e poi arriva il gol di Pedro adesso e guarda passaggio e il gol di Pasquilli eccolo qua questo è il gol che consente a Maradona di vincere il Mondiale Pedro con Valdano io mi sono ammazzato mi sono ammazzato in cinque partite mi hanno fatto due rigori non sono riuscito a far gol però però è stato un Mondiale che ricordo benissimo e per dire voglio dire ma per vincere i Mondiali ci vogliono anche i giocatori giusti al momento giusto bravissimo 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 avevamo fame noi Nanu avevamo fame anche il Benevento avevamo fame è bravo e loro dovevano avere questa fame e ce l'hanno per salvarsi io penso che avevamo fame per vincere quel Mondiale l'unica squadra che non andava in un hotel noi stavamo nel centro sportivo dell'America tutte le altre squadre hotel di 4 e 5 stelle no in un hotel la stanzetta mia e Diego una stanzetta un comodino in mezzo un bagno una televisione 4x4 ci alzavamo chiede permesso vai tu in bagno vado io c'è una cosa una cosa Nanu ti ringraziamo davvero tanto per questa tua bella sorpresa presenza di stasera e io spero però di abbracciarti presto da vicino assolutamente sì vi ringrazio anzi ringrazio te do un grande abbraccio a Pedro Nanu un grande abbraccio anche a te mi ha fatto piacere rivederti mi fai una cortesia mi fai una carezza la coppa che l'ho vista passare così allora aspetta aspetta inquadriamo Pasquulli per favore inquadriamo Pasquulli carezza la coppa te lo chiede cioè noi abbiamo la coppa del mondo sai che quando abbiamo giocato contro l'Italia Salvatore Bagni ha marcato a Maradona e dopo hanno detto che Galli era colpa di Galli il gol che l'ha fatto il gol di Maradona che era impossibile il gol che l'ha fatto Maradona praticamente era tecnicamente impossibile Giovanni Galli è fatto così impossibile e prenderla così fantastico grazie Nanu buona giornata ciao Nanu una bacione grande ciao grazie di tutto allora bellissima la presenza di Nanu Galderisi questa era soltanto una sorta di anteprima tra poco partiamo con la copertina perché preparati e parliamo di Gaic il fenomeno del momento tra poco ne parliamo 8 gol 8 channel la tv del grande calcio pubblicità arriviamo tra poco tra poco allora la settimana del ritorno della serie A gli impegni delle nazionali e noi tra poco però parliamo di Gaic a proposito di Gaic l'uomo che dà la vittoria al Benevento allo stadium con la Juve quanto è preziosa quella vittoria Velluzzi Bibì è vitale direi perché ha cambiato forse è la vittoria sì è la vittoria perché effettivamente a parte nessuno l'avrebbe davvero immaginato però restando a 26 il Benevento poi senza vincere continuando quella situazione si sarebbe trovato davvero in una situazione psicologica molto molto complicata e invece ha ricacciato indietro Torino e Cagliari e adesso guarda in un certo modo l'evolversi delle cose più 7 sul Cagliari più 6 sul Torino di Nicola e naturalmente non bisogna abbassare la guardia poi noi parleremo a lungo di Benevento Parma senti Pasquale mi racconti dal di dentro quando vi siete rivisti alla ripresa che tipo di atmosfera si respira a parte siete in fiducia ma siete un po' più consapevoli rispetto a prima Sicuramente la ripresa è stata fantastica con il raggio di sole giusto tre punti la sosta quindi ti permette di lavorare in modo più sereno poi quando batti la Juve ti senti più forte a proposito di battere la Juve hanno vissuto quel pomeriggio un pomeriggio particolare due ex ministri che tra l'altro sono marito e moglie il ministro Boccia che tifa Juve si giocava in casa della Juve e il ministro Nunzia De Girolam oggi tra le altre cose brillantissima conduttrice al sabato sera a Rai 1 e ha vinto il Benevento e Nunzia De Girolam è in diretta con noi al telefono buonasera Nunzia come sta? buonasera buonasera a lei bene è un grande piacere averla con noi grazie piacere mio sono molto divertita da questa partita da cui siamo reduci Benevento Juventus e beh anche perché ha vinto il Benevento perciò è molto divertita e sì anche perché avevamo fatto un'intervista alla gazzetta dello sport io come tifosa della mia città e lui come tifoso Juventino ma gliela ha fatta Bibi Belluzzi della gazzetta l'intervista? sì il bravissimo Bibi è stato il giornalista che ci ha fatto l'intervista e che ci conosce anche abbastanza bene no perché io ce l'ho in studio a Benevento stasera Belluzzi ah io a Roma e lui a Benevento me lo saluta è cambiato il mondo sì ecco ti qua Bibi facciamo sta carambata buonasera Nunzia ciao ciao Bibi sì ma carambata bravo carambata e complimenti perché veramente va detto la nuova la nuova veste di Nunzia non voglio dire sia migliore perché per me aveva fatto benissimo anche da Ministro dell'agricoltura però veramente ci sta stupendo tutti perché cambiare mestiere non è facile e fa il mestiere di Walter che Walter fa da una vita ma davvero davvero molto bene però per par condicio devo andare a fare il Ministro dell'agricoltura scusate grazie grazie per questi complimenti ma voi come sapete noi beneventane siamo delle streghe esattamente come la nostra squadra di calcio e sappiamo sempre stupire dai diciamo così il Benevento è stato sicuramente una grande sorpresa nel tempo nessuno ci avrebbe scommesso Bibi lo sa era un po' la cenerentola della campagna e però poi è diventata il sogno americano di quelle squadre di una piccola provincia che vanno in Serie A e addirittura vincono con la Juventus cosa veramente inaspettata anche se io devo dire che questa squadra sta giocando benissimo ha un grande presidente che è innanzitutto un tifoso un coraggioso uno che ci ha messo veramente tempo soldi dedizione in questa squadra ed è stato molto amato immediatamente dalla nostra città poi a me piace tanto anche l'allenatore perché è un ragazzo che come ho detto a Bibi mi spisserano diciamo dalle parti di Benevento i miei amici che controlla addirittura se i giocatori prima di una partita vanno in giro oppure no e quindi apprezzo molto questo spirito con il quale allora Nunzia allora pensi che io a proposito di calciatori ho uno dei calciatori del Benevento e che calciatore un signor calciatore perché lui è il regista del Benevento ed è schiattarella Pasquale ma è vero come dice Nunzia De Girolamo cioè Pippo è uno che non si ferma mai dovete mangiare il riso in bianco la bresaola vi controlla è vero che vi ha pesati il giorno dopo della vigilia in Natale l'anno scorso sì sì cioè fammi capire voi la vigilia in Natale fate il cenone allenamento il 25 mattina che di una cattiveria ragazzi 25 mattina alle 9 l'allenamento vi ha pesati è così cioè è vero vi ha pesati il giorno di Natale no non mi ricordo il giorno di Natale se ci ha pesato però il mister fa molta attenzione sull'alimentazione ci dà consigli sugli orari di andare a letto cioè eh visto non a caso è un campione del mondo quindi bisogna anche rubargli queste cose perché alla fine lo fa per noi il suo già l'ha fatto se ci dà un consiglio è per il nostro bene vabbè non c'è dubbio senta Nunzia me la racconta una cosa ma quando ha segnato Gaic a Torino con la Juve e poi è arrivato il triplice fischio finale lei a suo marito cosa ha detto? ma io con fare indisponente tra l'altro sono anche amica di Agnelli quindi io sono rovinata tra marito e presidente della squadra ho detto amore sai sono cose che capitano il Benevento ha vinto mi dispiace per te e lui voleva uccidermi io poi ho fatto anche le storie Instagram e continuavo a dire a proposito di Pasquale Schiattarella che è lì dico ma sai noi abbiamo centrocampisti napoletani che hanno delle tecniche un certo temperamento una maturità in attesa e lui diceva non ti ha ma tu non capisci niente di calcio ma perché non te ne vai e perché in realtà io non è che capisca molto di calcio però il mio tifo porta bene e questo conta il risultato e poi lei ha detto io sono una strega la mia squadra del cuore è stre ma lei è rimasta stregata da Gaic Nunzia ma stregata io sono stregata dalla mia città e quindi di conseguenza da tutti i giocatori che possano portare un contributo a questa squadra perché stare in Serie A per me significa essere anche un po' considerati in alcuni ambienti anche a livello nazionale io mi sono confrontata prima che con la conduzione e con la vita politica e purtroppo Benevento veniva spesso considerata solo un quartiere di Napoli per cui mi toccava sempre litigare con Mezzomondo per affermare la centralità di una città così piccola di provincia oggi saperla in Serie A è comunque un prestigio è comunque un nome che gira rende la città conoscibile per cui diciamo io sono stregata dalla capacità di questi ragazzi di dare importanza alla mia città che è comunque la città in cui sono nata bello e poi è evidente che l'espload di Torino con la Juve dove in tutto da quando esiste lo Stadium ci hanno vinto solo in otto ha portato Benevento a essere conosciuta nel mondo perché insomma in Giappone si parla del Benevento di Inzaghi e di Gaic Onorevole ce la dà un'anticipazione io poi la chiamo sempre Onorevole più forte di me tra l'altro svelo Nunzia ogni tanto mi manda i Whatsapp in anticipo con le puntate del sabato sera Nunzia ma ci dice chi c'è ospite ce lo può dire già? Eh no perché praticamente a parte che io vorrei vi svelo una cosa in Caghi ospite di Ciao Maschio veramente ci terrei tantissimo quindi estendete per conto mio quindi io lo diciamo Ciao Maschio il sabato sera come si salva il Benevento noi diremo a Inzaghi che deve venire a Ciao Maschio esattamente poi invece per quanto riguarda gli ospiti diciamo che di un altro vi faccio vi do un piccolo indizio perché io ho tutto un gioco sui social dove sono molto attiva che consente a chi mi segue se indovina un partecipante di vincere una maglietta di Ciao Maschio e quindi non lo posso svelare perché altrimenti voi che siete tanto visti voglio dire spoilerate gli ospiti di puntata però avrò un napoletano un napoletano molto famoso sì non nello sport ma sicuramente a livello artistico per cui questa puntata sarà a proposito ove mai le venisse in mente tra gli ospiti stasera c'è anche un campione del mondo che è Pedro Pablo Pasquilli che ha vinto il mondiale con Maradona nell'86 e ci ha portato la coppa del mondo dove mai c'è un maschio le mando un altro maschio le mando Pasquilli va bene senta facciamo così lo metta in contatto con me poi io ci penso come devo sistemare quest'altro maschio perché questo è un maschio questo maschio dormiva in tutto il ritiro in Messico nell'86 in camera con Maradona e ha vinto il mondiale con Maradona ammazza questo è un maschio vero è un uomo che ha toccato la fortuna di un grande campione devo dire che l'ospite che avrò a ciò maschio ha avuto a che fare anche con Maradona allora abbiamo capito allora abbiamo capito allora abbiamo capito Nunzia è un cantante è un cantante è brava le donne hanno una marcia in più inizia a tutti Nunzia io la ringrazio davvero tanto per essere stata con noi Nunzia De Girolamo 8 Channel in bocca al lupo per il sabato e buona Pasqua Nunzia grazie a lei buona Pasqua a tutti e viva Benevento e viva Benevento e viva Benevento la città delle streghe e a proposito città delle streghe di nuovo Nunzia grazie a rivenerti a proposito di streghe ci ha stregati Gaic perché oramai è così siamo tutti pazzi per Gaic nel servizio tutti pazzi per il tank e ripercorre quello che ha poi il prima nazionale proprio l'Under 23 e la prima nazionale argentina che è andata in campo dopo la morte di Maradona e ha segnato ancora lui ancora il tank il mondo il mondo di Gaic Sonia è chiaro che il gol fatto alla Spezia ma soprattutto quello di Torino ci hanno consegnato come dire davvero il nuovo attaccante della Serie A del calcio italiano perché sono tutti pazzi per Gaic prima di tutto ci ha consegnato quattro punti importanti perché comunque il Benevento è andato al picco con delle difficoltà perché veniva da un momento difficilissimo da sconfitte pesanti con il Verona e poi chiaramente con la Juve a Torino è il calciatore che mancava a questo Benevento chiaramente per caratteristiche perché ti consente comunque di giocare anche in un altro modo quindi consente alla squadra di essere duttile e versatile ed è importante soprattutto in questo rush finale perché diventa più complicato studiarla per le avversarie non vorrei essere nei panni di Daversa dove chiaramente non sa come si presenterà il Benevento al Vigorito se col 3-5-2 o col 4-3-2-1 quindi questo sicuramente è un punto di vantaggio ma poi sinceramente ha il fiuto del gol e mancava mancava questo Benevento perché chiaramente l'abbiamo detto tante volte forse era proprio l'uomo che mancava sì perché la Padula fa un lavoro importante però quest'anno gli manca un po' il gol può capitare ci sono le annate anche per gli attaccanti e invece Gaic effettivamente insomma ti riesce a segnare ecco se andiamo a vedere la partita con la Juve c'è stata questa occasione di Gaic che non ha fallito anche la Padula ha avuto un'occasione importante e quindi bene 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 poi soprattutto secondo me l'aspetto positivo è proprio di questa coppia che si muove bene diciamo che ha saputo comunque accorciarsi i tempi perché hanno avuto poco tempo per lavorare assieme però assolutamente i movimenti diciamo che si sposano alla perfezione e quindi dà una variante in più a questo Benevento che può essere un po' più pericolosa in avanti perché ultimamente era molto brava ecco nella fase di non possesso riusciva quantomeno ad ottenere punti importanti fatta eccezione sempre per quelle tre partite Napoli Verona e Fiorentina però quantomeno insomma vedi anche con la Roma riusciva a difendersi però perdeva qualcosa in avanti con Gaic ha recuperato è importantissimo perché poi è vero che se non vinci non devi perdere però attenzione la salvezza deve passare anche attraverso qualche vittoria Attaccante argentino come fa Sculli senti Pedro se ne dice un gran bene anche in Argentina lui tra l'altro ha fatto ancora perché poi quando si è in fiducia tu me lo insegni da attaccante ha fatto gol anche con l'Under 23 ha fatto già due gol in Italia ha già debuttato con la Nazionale ma che cosa ti raccontano dall'Argentina? se racconta se parla già si sta parlando molto di Gaic anche in la Nazionale maggiore è un giocatore con propiettiva a futuro molto interessante è normale che adesso il campionato italiano non è facile io mi ricordo quando sono arrivato io sono altri anni c'erano due stranieri all'epoca era difficilissimo era difficilissimo giocare in quell'epoca io venivo a fare 29 gol in Argentina e il giro a Lecce ho fatto 5 gol per esempio per il modo di dire però se ne parla molto bene di questo giocatore un giocatore giovane con molta potenzialità e io penso che ancora ha margine di miglioramento logicamente che dipende molto anche dai compagni suoi dell'ambiente del mister però è un ragazzo che io penso che le può dare molto e Insaghi ha fatto la copiata ragione Sonia insieme la padula perché tu vedi come per esempio facciamo un paragone un piccolo paragone Lukaku e Lautaro ecco e Insaghi l'ha visto bene con la padula e lui davanti un punto di riferimento uno fisicamente che è bravo anche tecnicamente fa sportellate e Gaic fa gol è anche tecnico è bravo tecnicamente molto bravo anche se è alto un metro novanta quasi però è molto bravo Pasquale poi tu lo vi prego questa cosa perché parlando proprio con Insaghi nel viaggio di ritorno da Torino lui mi diceva che in realtà Gaic è ottimo anche per il 4-3-2-1 perché chiaramente ha i due trequartisti stretti che giocano dietro per cui lui lo vede bene anche in quel modulo però poi chiaramente lo perdi nella coppia con la padula perché poi la padula non può fare non è proprio il suo ruolo quello del secondo trequartista però insomma Gaic effettivamente se sta bene può trovare spazio in tutti e due i moduli nel 3-5-2 c'è questa possibilità di vederlo in coppia con la padula quindi le alternative non mancano a Pippo Pasquale tu che lo vedi poi quotidianamente da quando è arrivato io credo che abbia una fisicità impressionante e poi al di là di tutto i vecchi maestri di calcio dicevano un attaccante anche se sa fare poche cose l'importante è che ne sappia fare una sappia far gol questo i gol li sa fare sì sì li fa anche durante la settimana si vede che è un giocatore forte è un giocatore che appena che è arrivato subito ha cercato di imparare la lingua e soprattutto ha cercato di capire quello che chiedeva l'allenatore si è messo a disposizione i numeri già parlano per lui io poi ho visto anche dopo questo gol pazzesco a Torino non solo la sua esultanza ma l'esultanza di tutti i compagni quindi l'avete fatto ambientare subito Pasquale ho visto un feeling speciale intorno a Gaic sai quando per due mesi non vinci manca un quarto d'ora alla fine passi in vantaggio fa Torino con la Juve Torino con la Juve è normale che vedi tu dove l'hai vista la partita a casa? sì stavo a casa ero squalificato è normale che vedi un'esultanza del genere ma si troverà sicuramente bene con noi ma poi lui aveva bisogno comunque di un ambiente caldo perché comunque nel campionato russo non si era trovato bene lui ha giocato poco proprio perché non è riuscito ad ambientarsi proprio una questione di perché noi sappiamo benissimo ce lo può dire insomma la cultura argentina si avvicina di più a quella italiana quindi chiaramente infatti cioè io Pasquale ha ragione qua sicuramente è caduto cioè è cascato proprio nella squadra giusta perché lo è napolitano argentino andiamo d'accordo molto e ti fanno sentire subito a casa e poi il direttore Pasquale Foggia è napoletano Pasquale è napoletano quasi tutti Insigne è napoletano Letizia è napoletana il prota è napoletano sei una squadra di scugnizi no infatti come hanno fatto con noi quando siamo arrivati a Lecce la stessa cosa non parlavi italiano però subito me ne sono sentito a casa siete arrivati tu e Barbas ricordi Belluzzi Barbas e Pasquini però lui veniva di Spagna lui giocava tu no io no io dell'argentino dell'argentino junior e dimmi una cosa Pedro avere uno come Inzaghi come allenatore che in carriera ha fatto il bomber potrebbe aiutarlo ancora in più tanto lui deve rubare tanto e per quello tu chi avevi a Lecce fascetti all'inizio fascetti dopo Mazzone ah il grande hai ragione hai ragione Mazzone bello bello no no infatti Pasquale ha detto una cosa giusta adesso lui mettono a proprio agio al giocatore in sagli le può insegnare tantissimo quello che ha fatto Pippo che ha vinto tutto un gogliador come lui per me c'è il massimo tenere un allenatore come lui penso che ti può insegnare tutti i mestieri Bibie bravo Pasquale Foggia bravo Pasquale Foggia perché Gaici innanzitutto sarà in prestito anche il prossimo anno non solo ma il Benevento ha il diritto di riscattarlo a 11 milioni cioè voglio dire sai uno che appena arriva fa gol alla Spezia e vabbè alla Spezia ma ti fa gol a Torino con la Juve cioè sai anche nell'ambiente tu me lo insegni non si fa altro che parlare di Gaici anche di Foggia perché sicuramente ha avuto un fiuto straordinario nel costruire questa squadra Pasquale nel testimone perché Pasquale è stato preso dalla SPAL per portare questa squadra in Serie A e ci è riuscito perché noi adesso stiamo sicuramente magnificando questi due gol di Gaici però visto che hai citato Pasquale Foggia bisogna dire che è un direttore sportivo che non ha il nome che noi rincorriamo ogni giorno sono i Marotta i Paratici gli Ausilio ma parliamo di uno che ha saputo costruire una squadra veramente cioè se noi pensiamo comunque al centrocampo che nel girone d'andata ha fatto 22 punti cioè Schiattarella Temai Unita io credo che questa cerniera qui sia una veramente delle chiavi dello splendido girone d'andata del Benevento aggiungiamoci Viola e questo ce lo dirà adesso Pasquale poi Sonia ci dirà con quale modulo lei giocherebbe contro il Parma però mi sembra che stia arrivando anche Iago Falche che può essere l'uomo in più in queste dieci finali Sì ma io penso che in queste ultime partite la concorrenza è la cosa migliore così nessuno è sicuro del posto ti alleni a mille all'ora e anche perché l'allenatore in questo momento non si gira più indietro deve andare per la sua strada chi c'è c'è chi non c'è è a casa quando mancano dieci partite alla fine il tempo è poco le partite sono poche i punti a disposizione sono pochi quindi c'è una strada da seguire adesso oh ma quanti allenatori vorrebbero uno come schiattare ragazzi ma in serie A di schiattare la scena sono pochi cioè no ma è così ma lui ha le idee chiare sa già quello che vorrà fare per me è già tra gli allenatori in casa farai l'allenatore ma non ho dubbi perché Bibi lui comanda ma lo vedi negli atteggiamenti in come muove il pallone in come accelera rallenta ma poi verticalizza con Maurizio De Giovanni che tu ovviamente conosci noi siamo proprio innamorati di schiattare beh soprattutto mi sembra esca dal campo veramente dando tutto quello oggi sentivo facevo un'intervista a un giocatore chiedevo una cosa su Nandez il giocatore del Cale diceva chi era il giocatore se possiamo sono curioso era Godin ah Godin e Pasquale veramente mi sembra veramente quello che anzi che dà qualcosa in più anche ai compagni cioè si butta su ogni contrasto credo che questo sia il bello oltre alla sapienza tattica veramente ci mette il cuore sì che secondo me è magistrale poi semplice mi diceva gli ho allungato la carriera ma gliel'ha cambiata ed è stata la fortuna del Benevento penso ma anche perché comunque una squadra neopromossa con tanti giocatori che poco conoscevano la categoria aveva bisogno di quei due tre di esperienza e lui è tra quelli che ha saputo prendere per mano questo Benevento nel girone di andata e riprenderla per mano nei momenti di difficoltà che chiaramente nel girone di ritorno sono sempre o quasi sempre più evidenti è normale che sia così sabato è difficile trovare i centrali di centrocampo oggi in Italia ha ragione perché non se ne trovano in questo momento perché è così difficile trovare questo tipo di ruolo è una bella domanda ma anche perché la maggior parte delle squadre giocano quasi sempre a due si è un po' persa la cultura del regista cioè ecco Belluzzi ha detto Locatelli eppure io ho notato che mancava Giorginio nella nazionale i Mancini cioè si sentiva la mancanza di Giorginio Giorginio stiamo parlando di un campione che negli ultimi anni è uno dei centrocampisti più forti al mondo penso ovviamente ti ripeto giocando con un centrocampo a due cambia cambia tanto quindi io poi personalmente vengo da delle annate dove ero una mezzala un esterno adattato play quindi facendo tanti ruoli per me è stato anche un po' più semplice poi viene a mancare la corsa quindi devi portare un po' con gli anni devi portare un po' su di qualità è il ruolo perfetto e te mai a Torino con la Juve avrà corso anche per te che eri squalificato non si fermava più una roba non l'ho mai visto così ma che bravo e te mai va bene noi dobbiamo proiettarci però a sabato perché oggi è lunedì e quindi sabato santo al vigorito alle 15 Benevento Parma tra poco vi diciamo tutto e soprattutto faremo un gran finale sapete che c'è una cosa storica che è successa settimana scorsa ovvero i diritti della Serie A a Dazon e avremo collegato con noi da Milano dal Sole 24 e Marco Bellinazzo che ci dirà tutto su questa rivoluzione del calcio in tv due minuti e ripartiamo state lì e allora sabato sabato santo al vigorito Benevento Parma vi ricordo al fischio finale poi offside con Sonia Lantella e allora apriamo a questo Benevento Parma Benevento in fiducia vince a Torino Parma è caduto in casa col Genoa Bibi Belluzzi è una di quelle partite che potrebbe dire veramente tanto nella stagione del Benevento è moltissimo moltissimo ne parlavamo adesso nel momento di sosta qui si parla di calcio anche a telecamera è spenta no però devi provare a farlo giocare devi costringerlo a fare la partita e in quel momento va in difficoltà perché poi non è tanto l'assenza di Gervini è una squadra che ama verticalizzare perché è quel che chiede la versa quindi devi farlo giocare e ripartire se invece il Benevento è costretto a fare la partita sicuramente ha più difficoltà perché il Parma ha molti giocatori veloci ecco però ti fermo solo un attimo se il Benevento è costretto a fare la partita ha più difficoltà Pasquale è capitato in qualche circostanza mi riferisco soprattutto a Verone Fiorentina che avete fatto un po' più fatica magari quando dovevate creare voi e fare voi partita rispetto che so al pareggio con la Lazio con la Juve con la Roma e alle tante vittorie esterne sicuramente quando incontri le big la partita è completamente diversa sono loro che ti vengono a prendere nella tua porta ti vengono a prendere alti se la rischiano dietro uomo contro uomo come è successo a Torino con la Juve ti sei messo là ti sei difeso e poi sei stato bravo a sbloccarla prima te quando giochi con le squadre che lottano per salvarsi o obiettivi quali al tuo siamo costretti tante volte a fare la partita e non sempre ti viene quella manovra veloce come voi tante volte ti viene anche quella no ansia ma sbagli due giocate ti fanno due contropiedi rischi di prendere gol e dici beh allora mettiamoci di nuovo a posto gestiamo ma a volte non c'è neanche il tempo di organizzarti perché se ti trovi 1-0 per gli altri devi andare a riprendere la partita tra poco ve lo presentiamo il Parma di D'Aversa ma cominciamo col Fanta Inzaghi perché noi con Sonia amiamo giocare e capire in anticipo ovvero è possibile le scelte di Inzaghi Sonia possiamo dirlo che torna De Paoli sì non lo so dal primo minuto non lo so perché è vero che si sta allenando da da due settimane no perché si è aggregato proprio al gruppo dopo la partita con la Juve è chiaro che è un giocatore che non ha difesa a tre però confermata no che dici torna Glick sarebbe Tuglia Glick e Barba ricordiamo che invece a Torino ha giocato Caldirola poi a Torino c'era in prota destra e Fulon a sinistra ci può stare De Paoli in prota? allora in prota sì il dubbio è De Paoli dal primo minuto perché bisogna vedere anche insomma se ha i 90 minuti nelle gambe come se la vuole giocare Inzaghi se vuole partire subito col colpo buono secondo me Schiattarella già lo sa e poi bisogna vedere i nazionali bisogna anche vedere i nazionali sì 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 sicuro bisogna vedere anche i nazionali quando rientreranno Glick è uno degli ultimi che rientrerà dovesse rientrare venerdì dovrà fare il tampone quindi si aggrega direttamente sabato e allora gioca mercoledì e torna giovedì quindi deve riuscire a tornare giovedì quindi farà il tampone giovedì stesso si aggrega venerdì quindi un solo giorno perché sabato si gioca quindi bisogna un po' valutare queste cose anche perché non ti dimenticare che Glick nulla togliendo a Glick non c'era a Torino e il Benevento ha vinto lo stesso quindi in quel caso no per dire che metti comunque dei calciatori che si sono allenati per tutta la settimana con la squadra se hai il dubbio di Glick quindi mi stai dicendo che potrebbe esserci una difesa con tuia barba e caldirola esattamente come a Torino potrebbe potrebbe non ti dimenticare che comunque ci sono stati due positivi nella nazionale di Glick quindi comunque rientrerà tamponi fermo un attimo controlli perché non puoi rischiare purtroppo gli impegni delle nazionali sono così creano ulteriori problemi bravissima Sonia attenzione quindi non lo escludo il Covid lo sta creando il problema no? perché voi i rinvii cioè voglio dire molti giocatori voi siete costretti a fare tanti tamponi a vivere in bolla come dire i tempi del calcio li sta dettando il Covid se penso alle nazionali l'Italia ha giocato mercoledì scusami giovedì con l'Irlanda ha rigiocato domenica ieri con la Bulgaria rigioca mercoledì non si è mai visto tre partite di qualificazione mondiale in sette giorni penso che da quando è scoppiata questa pandemia è un altro sport con gli stadi chiusi ti provo a immaginare solo una partita di sabato in casa col Parma che bella atmosfera ci potesse essere dopo la vittoria a Torino con la Ju e invece invece no è una tristezza una tristezza unica poi fortunatamente a benevento di casi ce ne sono stati ce ne sono stati veramente pochi spero che prima o poi torneremo alla normalità tu l'hai mai battuta la Juve Pedro? in carriera? sì con Lecce? a Lecce io io moriero ma quando segnò con Ticchio? no no prima io e Moriero due a zero due a zero sul rigore e Moriero di testa sì fantastico e com'è che cosa ti dà una vittoria con la Juve? no perché è un'ottimazione ma avete vinto a Lecce però sì a Lecce sì ma beh non è che c'è proprio la Juve vincere con le grandi è bellissimo però vincere con la Juve vincere contro la Juve è una cosa particolare non c'è niente contro la Juventus ma c'è niente la squadra che ha vinto di più in Italia però sì magari prima era diverso un po' più però attenzione però sempre soddisfazione bellissima perché la Juve è la Juve c'erano 10.000 15.000 tifosi della Juve che magari erano salentini ha ragione schiattarella peccato che stiamo con gli stadi chiusi da un anno sì giocare senza pubblico una tristeza sabato ci sarebbe stato il tutto esaurito ma insomma hanno un obbligo in più per salvarselo devono al pubblico perché devono dare la possibilità per il prossimo anno al pubblico di poter accompagnare la squadra in Serie A quindi hanno un dovere in più farlo per il pubblico che non ha potuto festeggiare la promozione dalla B alla A non ha potuto vivere quest'annata deve rimanere ancora in Serie A perché così si vogliono festeggiarla anche a febbraio in Serie B ma beh però quando esce è in campo ma c'è sempre la scaramanzia quando entri in campo che vede il pubblico che ti acclama soprattutto tipo a genzaghi con uno scaramantici come sono per ragionare allora Pasquale adesso ce lo puoi dire quando alla fine del girone d'andata avete battuto l'Ascoli al vigorito era il 29 dicembre e non l'avete battuto l'avete stracciato avete capito che eravate in Serie A ma sì cioè io dico ti dico la verità già le prime giornate avevo capito che quella era una squadra che ammazzava il campionato eravamo troppo tranne quel 4-0 col Pescara che poi avete indicato all'8 marzo ci può stare un incidente durante un campionato ma eravamo molto più forti di tutti torniamo all'attualità però perché adesso c'è un altro campionato un'altra storia 10 partite 30 punti in palio Bibi Belluzzi è chiaro che c'è un antico detto squadra che vince non si cambia siccome la squadra che ha vinto ha vinto a Torino con la Juve tutti aspetti dei cambi da parte di Inzaghi molti a parte Schiattarella titolare no come ha detto lui adesso siamo tutti in ballo quindi magari anche lui non è certissimo chiaro che Schiattarella comunque è essenziale in questa squadra però quello che faceva notare Sonia è fondamentale bisogna vedere i ritorni come sono e poi c'è una squadra che appunto senza Glick che non c'è stato a Torino e la squadra ha vinto c'è una squadra che si è allenata per tutta la settimana e senza senza Glick sì io credo sia molto difficile che Inzaghi rinuncia a Ionita perché Ionita appunto ha un utilizzo incredibile e poi chi è dentro ci può dire io essendo di Cagliari l'ho avuto tanto l'ho visto tanto con il Cagliari e tanto con il Verona è un giocatore di una sostanza di una quantità incredibile è lo stesso un altro che dà tantissimo e quindi penso che per Inzaghi sia molto importante magari non lo vedi ma è utilissimo sì esatto è vero sicuramente nel centrocampo a tre è chiaro che io ecco mettendo schiattarella perno centrale ci vedo più Etemaia e Ionita rispetto a Viola perché chiaramente ti dà comunque più sostanza più quantità la serie B loro erano talmente più forti che insomma non avevano problemi in serie A chiaramente per la difesa diventa più difficile reggere quel tipo di centrocampo già con un 3-5-2 c'è più gente lì e quindi ti puoi permettere secondo me schiattarella e Viola assieme tranquillamente fermo restando che devi anche analizzare le caratteristiche degli avversari questo è fuori discussione vogliamo conoscere gli avversari però Ionita sicuramente è importante anche perché è quello che ti dice il girone di andata esatto ah beh non c'è dubbio non c'è dubbio avversari come sapete è il Parma di D'Aversa subentrato ovviamente a Liverani e allora vediamolo il Parma e ci avrà un bel po' di assenze e Pedro c'è Pellè che è tornato ha fatto gran a proposito di gol poi ha vinto il Genoa a Parma il venerdì prima della sosta questo Scamacca a proposito di Bomber mi sembra che Scamacca possa essere il Bomber del futuro è un ottimo giocatore un ottimo giocatore c'ha tanto ancora da imparare però è un ottimo giocatore per il futuro penso che può fare ancora molto di più di quello che ho fatto fino adesso a proposito giovani molto interessanti nel Parma soprattutto là davanti c'è Miala veramente giocatore importante come man Sonia te l'aspetti proprio così schierato 4-3-2-1 con Pellè unica punta una sorta di 4-3-3 me l'aspetto potrebbe assolutamente essere questa la formazione ma io sono d'accordo con Francesco è una squadra che verticalizza molto e poiché secondo me in questo scontro diretto il Parma ha più bisogno di vincerla rispetto al Benevento punti alla mano io fossi nel Benevento non avrei così fretta cioè sinceramente ci sono due tempi niente ansia anche perché c'è sempre secondo me una spiegazione noi abbiamo visto che l'andamento del Benevento è diverso trasferta casa secondo me in trasferta è una squadra perché poi è anche una questione mentale anche un po' quello che vedi in casa tendi a fare la partita in trasferta tendi più ad aspettare questa è una squadra che anche a Torino ha dimostrato ancora una volta qual è la sua identità è una squadra che deve restare sempre compatta quando prova ad attaccare da subito tende un po' a sfilacciarsi ad allungarsi e invece ha bisogno di restare compatta senza aver fretta perché attenzione non è che così non segni così è segnato alla Juve quindi non è che se sei compatto se sei un po' tendista si aspetti se studi gli avversari poi non fai gol ci sono 90 minuti più i recuperi insomma il tempo ce l'hai a disposizione se Inzaghi non rinnova lei è candidata alla panchina del Benevento stavo ascoltando stavo pensando Sonia poi è molto attenta Pasquale ci vorrà non solo il cuore quello che abbiamo detto futuro allenatore sei d'accordo te la porti come seconda te la porti come seconda Pasquale una di quelle partite insomma non ci giriamo intorno avete Parma e Sassuolo si dice una partita alla volta è chiaro che è un momento molto importante sì adesso vabbè al di là di Parma Sassuolo arriviamo alla fine dove ogni punto conta veramente tanto la cosa più importante è che negli scontri diretti non lasci punti questa è la cosa più importante anche perché voi per esempio col Cagliari nello sconto diretto l'avete già vinto a Cagliari e noi ne abbiamo tanti staccarci da da questa quota 29 e passare ai 30 31 32 punti è importante è tanta roba Pasquale perché penso che con 36 37 punti è fatta tu dici secondo me sì 36 37 è fatta vogliamo dire anche 38 anche 39 cioè vediamo i numeri ma 36 secondo me è una buona posizione diciamo 38 diciamo 38 38 punti al Benevento ne servirebbero 9 secondo me con tre vittorie con tre vittorie con tre vittorie e sei quindi a 36 Sonia Sonia stai sentendo che ha detto che ha detto siccome io dicevo se la quota è 38 io l'ho un po' alzata al Benevento mancherebbero di fatto di fatto 8 punti sì no? tre vittorie è fatta secondo me sì e a Lecce è retrocesso con 36 l'anno scorso 36 quindi con 37 ti saresti salvato quindi quello è 37-38 e tu il Genova lo tiene in casa? quello è no no Genova no in trasferta però ecco l'altro però hai in casa in casa c'ha 5 partite c'ha una dietro l'altra Parma e Sassuolo poi c'ha l'Udinese poi c'ha il Crotone e poi c'ha anche il Cagliari cioè se consideri Parma Cagliari e Crotone ce l'è in casa poi c'è comunque l'Udinese il Sassuolo che può concedere in trasferta c'è Genova e Torino Genova e Torino però il Torino è all'ultima Torino potrebbe essere dentro potrebbe essere fuori il Crotone potrebbe già essere retrocesso la penultima è spezia Torino la penultima è spezia Torino secondo me secondo me il Crotone arriverà già al retrocesso il problema però che quella è una partita sempre un po' particolare c'è una molto sentita sempre perché poi ci sono le tifoserie che anche se da lontano spingono è una partita un po' particolare quindi va con attenzione è importantissimo quel giocatore ah importante Gervinio soprattutto quando riparte verticalizza molto con Pelle vuoi sapere come gioca vuoi sapere come gioca io non lo so con Pelle Pelle vuoi giocare lì davanti fermo troppo statico Ivan Calabrese che dicevi Bibi Miala Miala va Miala è tanta roba bel giocatore è uno da tenere d'occhio perché è molto veloce mamma mia è una spina noi continuiamo a a discutere a discutere ancora alla ripresa un Parma arrabbiato arrabbiato anche perché perso in casa col Genoa Pasquale sono di quelle gare dove davvero devi giocare col coltello tra i denti è un modo di dire ma è la verità sì sì è la verità sono quelle partite ti ripeto che è uno scontro diretto che non devi perdere punti non devi dare punti agli avversari soprattutto quando mancano così poche partite alla fine ovviamente è una vittoria sarebbe importantissima magnifica anche perché quattro punti nelle prossime due Parma e Sassuolo sarebbero proprio e lo diceva Pasculli eh Pedro quattro punti e non perdere a Genoa lasciamo stare i sei punti perché è banale è normale è scontato può accadere attenzione nulla questo obbedimento ha dimostrato che nulla è scontato gireresti a 35 con 8 partite però diciamo che quattro punti quattro punti sarebbero proprio l'ideale l'importante è ovviamente però come diceva Schiattarella anche dall'alto della sua esperienza queste partite non le devi perdere perché Pedro poi devi muovere la classifica il Torino c'è il derby con la Juve il Cagliari c'è il Verona di Juric che però ha perso in casa con la Tlazio però Walter se c'è questo detto nel calcio che se una partita non la puoi vincere non la devi perdere come fai a capire che non la puoi vincere studiando prima l'avversario Pasquale come fai a capire se tu parti subito a mille ma lo capisci cioè con la Fiorentina ora al di là di Vlaovic se parti subito a mille non lo capisci devi un attimo costruire l'avversario da qualche tempo per devi 3-0 è difficile ma avevate colto che potevate andare un po' in difficoltà no secondo me noi abbiamo pensato di vincerla di vincerla e per vincere non l'avete persa e poi alla prima azione ci hanno fatto subito gol si è aperto un'altra partita un altro mondo senti Bibi tu segui anche spesso il Cagliari oltre all'Udinese per la Gazzetta e lo Sport mi sembra un Cagliari diverso da quando è arrivato Semplici proprio un altro Cagliari se non può dire più lui ah beh Semplici lui l'ha avuto no sicuramente è una squadra che ha sicuramente della gente non abituata a lottare per la salvezza e questo è un problema è una cosa è un eco che ricorre spesso a Cagli in questo momento quindi c'è bisogno degli uomini leader è semplici questo l'ha capito ha messo gli uomini d'esperienza al centro di tutto perché in questo momento c'è bisogno di quegli uomini lì però è una squadra vedendole tutte e due per esempio ecco l'Udinese mi rendo conto di una forza notevole di una squadra molto ben allenata molto quadrata dietro che non concede niente infatti è brava a vincere certe partite perché è bravissima a farti fare la partita e a ripartire voglio dire ha fatto una prestazione a due mezzali comunque straordinari che sono Pere De Paul basta vedere De Paul che il campionato sta giocando altro altro argentino come dì pronto per un grande credo però ecco il Benevento deve arrivare alla partita col Cagliari già in tranquillità per esempio sarà il 9 maggio quella partita però facendo un punto a Genova con il Genova fondamentale e poi se non sbaglio il Crotone forse l'avete prima no no il Crotone è la penultima Crotone e Torino Benevento Crotone e Torino Benevento le ultime ma datemi il calendario fatemelo vedere che Velluzzi è curioso eccolo qua eccolo qua e a più 9 tra l'altro eh vedi anche il Cagliari Cagliari ha due trasferte in Campania dopo aver ospitato la Roma Napoli e Benevento una dietro l'altra non abbiamo in tutto questo Calderone mai considerato la Fiorentina che ha una situazione mentale molto difficile perché l'abbandono ai Prandelli come ce l'ha il Torino anche il Torino in grande difficoltà beh il Torino mancano i punti quindi Torino e Cagliari mancano i punti rispetto alle altre la Fiorentina i punti li ha come lo Spezia e Benevento però bisogna vedere che contraccolpo può subire dalla fuoriuscita ai Prandelli dal ritorno di Iacchini è una situazione molto complicata devo volare in pubblicità perché siamo pronti al gran finale tra poco parliamo di diritti TV rivoluzione in TV tutta la serie A ad Azzon avremo Marco Bellinazzo collegato con noi collega il Sole 24 pubblicità arriviamo tra poco allora pronti al gran finale la rivoluzione nel calcio a proposito di diritti TV ma a proposito di TV vi ricordo sabato Benevento Parma e al termine Sonia Lantella offside questa è la certezza in tutti questi dubbi dei diritti televisivi o social ci saranno la Lega finalmente si è messa d'accordo i presidenti si accordano è la rivoluzione del calcio la serie A su Dazzon ne parliamo collegato con noi con il collega del Sole 24 Ore che è Marco Bellinazzo caro Marco buonasera e cominciava altri buonasera a te buonasera a tutti senti Marco tu sei uno dei primi ad aver colto che Dazzon stava per mettere le mani sulla serie A ma te l'aspettavi o alla fine pensavi a un rilancio clamoroso di Sky no sinceramente mi aspettavo che alla fine Sky diciamo andasse oltre la prima offerta però è quello che ha sorpreso diciamo e che ha giustificato un po' tutta questa operazione il fatto che non è solo l'offerta di Dazzon questa è l'offerta da Dazzon Team che è non solo il partner industriale dell'OTP delle trasmissioni streaming ma anche un partner finanziario metterà almeno il 40% insomma degli 840 milioni che ogni anno Dazzon verserà ora la serie A come si parla Marco vi ricordo Marco Bellinazzo sulle 24 ore collegato con noi si parla però dell'altro pacchetto quello delle tre partite quello che attualmente è di Dazzon insomma rifiutata l'offerta che Sky avrebbe presentato da 70 milioni di euro vero? 70 milioni era la prima offerta credo che Sky oggi abbia anche provato ad alzare la posta ma la serie A diciamo queste squadre su 20 hanno rifiutato e quindi non si è arrivata ai 14 credo che ora l'idea sia quella di provare a creare un pacchetto appunto di tre partite non esclusive un pacchetto che però possa essere rimesso sul mercato con un nuovo bando e venduto a più operatori quindi pagato meno da ciascun operatore ma nel complesso avendo un ricavo maggiore quindi in questo senso potrebbero rientrare in gioco ad esempio Amazon Prime piuttosto che Mediaset con Infinity la stessa Sky quindi questo per dare 100 abbonamenti Marco così però e chiaramente ora si porrà un grande un grande problema per i telespettatori ma soprattutto per i tifosi che vogliono seguire la propria squadra del cuore in tutte le sue partite della stagione per cui chi avesse una squadra che fa la Champions o l'Europa League il campionato dovrà avere l'abbonamento a Dazon che ha sette partite in esclusiva più tre non in esclusiva l'abbonamento a Sky che ha la Champions tranne che la migliore partita dell'italiana del mercoledì che va su Amazon Prime una parte della Champions poi va anche su Mediaset streaming Infinity come abbiamo detto la stessa Mediaset potrebbe rientrare in gioco con questo pacchetto di tre partite non in esclusiva insomma bisognerà un po' costruirsi un proprio parincesto ideale sperando che il prezzo alla fine non vada a incidere troppo le tasche dei consumatori in un momento così complicato e questo credo che sia essenziale e in secondo luogo capire se questa trasmigrazione tecnologica posto che le trasmissioni in streaming sono il futuro potrà avvenire senza scossoni perché ci ricordiamo tutti quello che è successo tre anni fa ecco le trasmissioni in streaming vanno bene non hanno problemi quando si tratta del classico on demand pensiamo ai film pensiamo a Netflix per intenderci molti più problemi li creano sugli appuntamenti live e in particolare poi quando ci sono più appuntamenti contestuali perché lì abbiamo un'autostrada digitale immaginiamoci questa autostrada che viene ingolfata e le nostre reti digitali sono in parte diciamo in alcune realtà del paese larghe abbastanza per farci passare tutte queste auto in altre parti del paese sono strette o addirittura non ci sono e questa partita Walter rubo solo altri 20 secondi è stata una grande molto più grande di quella che è stata la partita dei broadcaster tra Sky e Dazon questa è stata una partita in cui sono scesi in campo dei grandi conglomerati industriali perché qui c'era la partita della banda larga perché Sky si è lanciato in questo mercato e si appoggiava con il suo prodotto Sky Wi-Fi sulla rete a banda larga di Enel Open Fiber dall'altro Tim è scesa in campo anche per bloccare questo tipo di espansione degli americani di Comcast che sono i proprietari di Sky quindi è una partita la partita più importante dei diritti TV perché Marco Bellinazzo che è un numero uno assoluto ce lo spiega come Sky scende in campo con la fibra di Sky Tim la va a contrastare ovviamente insieme a Dazon Marco Bellinazzo ce l'ha spiegato il futuro dell'Otti poi bisognerà capire se in futuro per esempio le nuove generazioni non staranno 90 minuti dinnanzi a una tv a seguire la partita ma magari vorranno vedere gli highlights tutto in 4 minuti perché Marco è tutto più rapido oramai no? Assolutamente queste sono le vere grandi sfide del futuro chi si occupa di questi temi diciamo guardandoli a qui a 10 anni e non a qui a 10 anni dietro come di solito fanno in Lega Calcio ebbene sa che questi sono i veri problemi di gestione del prodotto calcio in quanto prodotto di business e prodotto dell'entertainment la sfida non è più all'interno della serie A e nemmeno tra le leghe calcistiche la sfida ormai tra le leghe calcistiche e l'NBA e tra l'NBA i videogiochi di ragazzini tra i videogiochi e i social insomma il tempo dei consumatori i giovani oggi ce lo dicono tutte le ricerche difficilmente stanno lì a guardarsi una partita di 90 minuti vogliono un altro prodotto vogliono un prodotto interattivo vogliono un prodotto che consenta diciamo una fruizione rapida e ovunque ci si trovi in qualsiasi condizione questa è la verità Sonia prima di salutare Bellinazzo una tua domanda per Marco e poi lo salutiamo ma più o meno è stato bravissimo nel senso che ha detto tutto e ci ha spiegato tutto benissimo però è anche vero insomma che cambia un po' tutto nel senso che vedere Sky che era un po' il calcio il colosso anche perché ora sono scesi in campo anche un po' i telespettatori che subito dopo quando hanno saputo di questa vittoria di Dazon sui social nonostante ci fosse stato l'intervento di Draghi si parlava di Dazon e Sky perché chiaramente c'è preoccupazione per chi ha l'abbonamento Sky cosa accadrà ecco il telespettatore quanto ancora dovrà aspettare per capire come muoversi e come indirizzarsi perché ancora adesso c'è sempre la speranza perché sappiamo benissimo che attualmente c'è un canale di Dazon su Sky quindi di un accordo di un qualcosa quanto tempo dovrà ancora aspettare il telespettatore per capire cosa accadrà realmente e come muoversi dovrà appassentare ancora qualche mese perché l'AD di Dazon ha per esempio detto che sono esclusi accordi con Sky per il futuro quindi quel canale che oggi vediamo lì e d'altro canto Tim non avrebbe concesso questo tipo di operazione tanto più però la questione è complessa quando ad esempio mi auguro chiaramente che non accada per tutti noi telespettatori ma se a settembre dovesse cominciare la serie A sui nuovi canali da zone con immagini impallate o sgranate ci auguriamo di no è evidente che però ci sarà una sollevazione popolare e quindi magari le cose potrebbero cambiare però al momento accordi come quelli che già sono in atto non ci sono e quindi bisognerà aspettare qualche mese per capire che tipo di offerte farà da zone si parla di un abbonamento a 30 euro per seguire il calcio e gli altri sport che offre da zone e mi auguro che ci sia uno sconto importante su Sky per non scomparire peraltro anche tanti posti di lavoro in Italia che sarebbe davvero un peccato insomma per i tanti colleghi ma queste sono un po' le regole del mercato per i consumatori ripeto la cosa più importante è che ci siano le condizioni tecniche per poter fruire del servizio e non ci sia un aggravio di costi che sarebbe intollerabile in questo momento Marco io ti voglio veramente ringraziare tanto perché stasera ci hai fatto una lezione di diritti tv nel presente e nel futuro Marco Bellinazzo il sole 24 ore t'abbraccio Marco ciao ciao grazie a tutti buonasera 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 noi siamo veramente in chiusura sono in Lantella ricordiamo però appuntamento con gli speciali del Roma per conoscere otto pagine per conoscere il Zannio questa volta ci portano ad Airola sì sì assolutamente domani con il Roma ecco ci sarà questo speciale dei due direttori Melillo e Fiesta dove si va ad Airola dove si parla di tutto della storia importante di questo paese ma anche dell'economia dei tanti problemi che purtroppo bisogna affrontare per via della pandemia si parla anche di politica insomma si entra nel vivo di questo paese molto bello da conoscere da scoprire con il Roma con le pagine attraverso le pagine del Roma perché effettivamente il Sannio l'abbiamo detto tante volte ha da raccontare bellissime storie quindi eccole là foto interviste e commenti che meritano insomma di essere eletti prima di salutarci doppio appuntamento importante segnatelo in agenda perché sabato al termine della partita Benevento Parma c'è offside con Sonia Lantella e speriamo che Pasquale e compagni non mi faranno arrabbiare troppo non la fate arrabbiare in casa mi fanno sempre arrabbiare non la fate arrabbiare Pasquale anche perché è sabato santo il giorno dopo è Pasqua e a proposito noi noi ci vedremo il lunedì di Pasquetta quindi ditelo agli amici ditelo ai tifosi vivete la Pasquetta con noi a pranzo state il lockdown state con le famiglie no? accendete la tv tanto oramai esatto tanto alle 22 dovete stare a casa tornate un po' prima anche perché tutta zona rossa è tutto chiuso quindi pranzate a casa con le famiglie con solo due parenti massimo due amici poi alle 21 accendete 8 channel e noi viviamo la Pasquetta insieme a voi Pasquale Schiattarella buona Pasqua grazie buonanotte buona Pasqua a tutto il popolo giallorosso e complimenti per la trasmissione ma anche perché voglio aggiungere una cosa visto che si parla tanto di interattività oramai il telespettatore vuole partecipare vuole far sapere devono sapere appunto che poiché i calciatori e Pasquale qui può confermarlo ma anche in Zaghi Foggia ci seguono tantissimo leggono anche i loro messaggi quindi loro attraverso i loro messaggi hanno anche modo di far arrivare il loro pensiero e la loro voce ai diretti interessati ma ci inventiamo una puntata speciale ci inventiamo tutta la Pasquetta minuto per minuto magari apriamo anche alle telefonate ai vostri messaggi sarà una Pasquetta diversa sperando bella e sperando bellissima già il sabato santo buonanotte Sonia sabato a notte notte grazie e grazie per essere venuto è la prima volta il collega della gazzetta dello sport Bibi Belluzzi ciao Bibi che bello grazie a voi esperienza bellissima quindi valso un viaggio so che spesso ci segui però in streaming assolutamente sempre ogni lunedì sempre anche dopo le partite perché ormai appunto avendo fatto parecchie interviste parecchie cose con i giocatori del Benevento bellissima quella viola bravo molto bella mi sono incontrato a Udine e poi a Cagliari e ho portato bene due volte al Benevento quindi sì no no mi sono molto appassionato perché vai anche a Genoa a fare Genoa Benevento speriamo scusami se hai portato bene a Udine hai portato bene a Cagliari fatti in giretta a Genoa e tante vici no credo che sia bellissimo cioè dobbiamo essere contenti di queste realtà io così come ho gioito quando ho visto la Spal queste realtà sono quelle che tengono vivo il calcio ma io l'ho detto nel discorso a me piace questo è una favola il Benevento che vince in casa della Juve a Torino è una favola bellissima che resterà per sempre come resterà per sempre l'emozione che ci ha regalato non solo nel venire ma il regalo che ci ha fatto un campione del mondo nell'86 con Maradona Pedro Pablo Pasculli sai che io mi emoziono a saperti mio amico è pazzesco per me anche per me è un piacere essere amico tuo ti ringrazio del cuore forza Benevento me la dici una cosa ma la notte prima della finale in Messico tu e Maradona tutti me la chiesti eravate in camera ma Diego che faceva dormiva non dormiva tu volevi dormire io no come no come fai a dormire che sai che domani c'è la finale della coppa del mondo stavamo parlando con Diego parlando così Diego che dice Diego domani la finale della coppa del mondo si non ti preoccupare ci penso io non ti preoccupare così ti ha detto dopo un po' continuavo a parlare io un po' sì non potevo dormire come faceva dormire lui dormire so che domani c'è la finale della coppa del mondo dopo stavamo parlando io continuavo a parlare Diego si è girato come fai a dormire come fai a dormire ma l'hai svegliato no vabbè lui parlava dormiveglia nel dormiveglia si si tranquillo poi si è giocato tranquillo vai domani ci penso io dormi tranquillo cioè ti ha tranquillizzato ti ha tranquillizzato dormi dormi ci penso io tu l'hai fatto in quella partita dove hai segnato poi me l'hai fatto io difficile spiegare faccio una gola sacralità posso prenderla per un attimo posso? prego insomma nella vita ragazzi pensate un po' perché la vuoi alzare? ma quando mai mi ricapita più nella vita in tv di salutare gli amici di 8 Channel nel dare appuntamento a lunedì prossimo a Pasquetta vi auguro buona Pasqua scusate ma è una Pasqua bellissima Bibi ma quando mi ricapita più di avere la Coppa del Mondo tra le mani quella che ha vinto Maradona insieme a te ragazzi non ho parole vi dico solo buonanotte grazie di cuore a tutti buonanotte ci vediamo lunedì buona Pasqua buona Pasqua buona Pasqua